Rekordbox avete qualche dubbio? Pare proprio di sì. Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude, c'è molta confusione con Rekordbox e tante cose, non sono chiare come posso tornare alla versione precedente di Rekordbox 6 e dalla 6 alla 5, ma è vero che Rekordbox 5 sparirà, passando dalla 5 alla 6 perdo i Q, i loop e tutti i tag ed invece dalla 6 alla 5 ho comprato un controller Pioneer, devo per forza fare un piano Rekordbox? Posso comprare la licenza anziché fare i piani? Posso usare l'Ekordbox 6 su più computer e senza piani di abbonamento? Come devo formattare le chiavette USB e l'SD? Un bel po' di domande e risposte che ogni utente prima o poi si fa, le abbiamo raccolte in un bel video che vi toglierà un po' di dubbi. Anyway, are you ready? Let's go! Uh, quanti dubbi, quante domande, si sa molti di noi vogliono accendere il controller, il computer e suonare, 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 suonare senza starci a pensare troppo, ma qualcosa può non essere chiaro e non funziona. Aspetti che affronto ed ovviamente approfondisco insieme a tutto ciò che riguarda il mondo del DJ e della produzione musicale nei corsi della SOS4DJ Academy, corsi, lezioni e consulenze private, personalizzate direttamente live, nulla di registrato e di preconfezionato, tutto direttamente con me, non si scappa. Ci potete contattare tramite il sito ufficiale o tramite le nostre pagine social privatamente. Anyway, si comincia con le risposte alle vostre domande. Posso comprare la licenza di Rekordbox 6 anziché star lì a fare piani di abbonamento? No! Rekordbox 6 offre solo piani di abbonamento. Non è possibile acquistare una licenza come per altri software una volta per sempre. Ha a disposizione tre piani di pagamento che conoscerete sicuramente benissimo, il core creative e il professional più un altro gratuito del quale parleremo per altre domande. Vi lascio il link in descrizione per andarvi a vedere le differenze di costi di ognuno, anche se i costi vanno rivalutati. Andatevi a vedere il video perché da anno nuovo cambieranno un po' le cose per i nuovi abbonati. Ho comprato un hardware Pioneer DJ. Ho diritto a Rekordbox 6? Sì, se il componente che sia controller, mixer e CDJ comprende una chiave di licenza e diventa così sblocco hardware per Rekordbox 6. Cioè lo connetti e va senza bisogno di star lì a sottoscrivere un abbonamento. Come si fa a sapere quali sono i controller o mixer o i CDJ che sbloccano tale operazione? Ed ecco qua la pagina per comandare la modalità performance. Senza abbonarsi a un piano di pagamento si può collegare un dispositivo sblocco hardware, cioè i dispositivi seguenti sono dispositivi sblocco hardware di Rekordbox versione 6 per la performance, mode control, recording, sharing mix, midi learn, merge effects 1, sample scratch. A partire dai CDJ3000 fino ai mixer DJM qui controllate o stoppate il video così poi ve lo guardate con calma. Il DVS sbloccato da queste macchine, il video dal DDJRZX, sample sequence saving dalla DDJRZX, RZRXRR. Gli effetti dall'XDJRX3 per il ping pong, elix e binder, break. Ma potete vederlo anche in questo link che anche questo ve lo metterò in descrizione. Vedete proprio le differenze dal performance mode, controllo DVS, controllo dispositivi di illuminazione, uscita video, salvataggio, sequencer di tutte le macchine che sono dispositivi sblocco. Se aggiorno Rekordbox alla versione 6, devo impostare di nuovo tutti i punti di Q, le Bitgrid e bla 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 sulle mie tracce? No, non occorre impostarle di nuovo. Quando si eseguirà la versione 6 per la prima volta, l'attuale libreria sarà convertita alla versione 6. Tutte le informazioni della propria libreria, per esempio Q, Bitgrid, playlist, eccetera, saranno trasferite. In alternativa, se per esempio abbiamo avviato Rekordbox 6 con una libreria vuota, si può selezionare sempre File, Libreria, Importa dalla libreria della versione 5 o precedente. Ho installato l'ultima versione di Rekordbox e mi dà problemi. Come posso tornare alla precedente? Puoi scaricarlo dal link che ti metto in descrizione ed avrai a disposizione tutte le versioni precedenti dell'ultima uscita. E lo vedete qui il link a partire dalla 6.6.7 fino a arrivare alla 6.2.0. Quindi potete tornare indietro nel tempo. Se mi cancello da Rekordbox 5 e scarico la versione 6, rischio di andare a perdere tutta la mia collezione? No, come abbiamo detto prima, dovrai trasferire la tua libreria dalla 5 alla 6 e non è sufficiente fare altro. Ho aggiornato Rekordbox alla versione 6 ma voglio tornare alla versione 5. Come si fa? Potrai usare Rekordbox versione 5 con la seguente procedura. Andare su Windows, installare di nuovo la versione 5, doppio clic su Rekordbox sul desktop. Mentre con Mac usare il Finder per selezionare applicazioni e poi cliccare sulla cartella Rekordbox 5 e fare doppio clic sull'app di Rekordbox. Da sapere che prima di fare tale operazione la tua libreria versione 5 rimane invariata dopo che la avrai convertita alla 6. Quindi tutte le informazioni che avrai fatto su QI, TAG o sulle tracce che hai nella versione 6 non saranno contenute nella versione 5. Posso usare il piano di abbonamento di Rekordbox versione 6 su più di un computer? Sì, puoi usare più computer con un solo piano di abbonamento di Rekordbox 6. Per attivare altri computer dovrai eccedere con le credenziali dell'account usato per il piano di abbonamento. Il numero di computer e dispositivi mobili che si possono attivare è fino a 2 con il piano core, 4 con il piano creative, 8 con il piano professional. Ovviamente tutte queste cose può darsi che cambiano nel tempo ma al momento è così. Se hai raggiunto il limite disattiva un dispositivo prima di attivarne un altro. Posso usare Rekordbox 5 e 6 sullo stesso computer? Si può usare Rekordbox 5 anche dopo aver installato la versione 6 sullo stesso computer. Ma la versione 5 e la 6 non si possono usare contemporaneamente. Inoltre ci sono delle limitazioni perché se possiedi già la versione 5 acquistata a parte o compresa in alcuni pacchetti si può continuare a utilizzare la versione 5. Perché a partire da aprile 2020 non è più possibile acquistare la licenza di Rekordbox 5. Per utilizzare le funzioni con la versione 6 si dovrà sottoscrivere un piano di abbonamento. Ricordiamo sempre che le librerie della 5 e della 6 non sono sincronizzate. Perciò dal momento che tu hai fatto il trasferimento sulla 6 niente rimarrà sulla 5 delle nuove cose che andrai a cambiare su Rekordbox 6. Posso usare Rekordbox 6 senza un piano di abbonamento? Puoi usare Rekordbox versione 6 senza abbonamento ma le funzioni disponibili variano comunque in base a come si utilizza il software e a quale tipo di apparecchiatura DJ è collegata. Per usare la modalità export non occorrono abbonamenti. Le funzioni disponibili sono la gestione delle tracce, l'importazione delle tracce su dispositivi USB, link export, registrazione e altro. Per usare la modalità performance come detto occorre un piano di abbonamento oppure uno sblocco hardware. Con questa modalità potrai eseguire il mix DJ, le funzioni di Viser, mix effect, lyric in base all'abbonamento scelto. Posso convertire la mia libreria di Rekordbox versione 6 su una libreria versione 5? Non è possibile come detto convertire le librerie dalla 6 alla 5. Rekordbox 5 capitolo a parte andiamo a togliere un po' di leggende che sento in giro. Rekordbox 5 si può ancora scaricare? Sì al momento si può ancora scaricare e vi metterò il link qui in descrizione di tutte le versioni precedenti come avete visto per la 6. Rekordbox 5 continuerà ad essere supportato e aggiornato? Le voci si sono susseguite che Rekordbox 5 non sarà più possibile usarlo, che sparirà, che faranno le multe, i vigili. Ma invece al momento no, è ancora possibile usarlo. La confusione nasce dal fatto che sono terminati gli aggiornamenti da febbraio 2022 e quindi andranno a sparire il supporto del prodotto per gli aggiornamenti dell'applicazione, correzione di bug e via e il supporto delle richieste su specifiche o problemi. Che richiedono il supporto dei tecnici, mentre continueranno a supportare le problematiche sull'attivazione. E per finire la carrellata di queste domande, come devo formattare le chiavette USB o le SD? Ed ecco qua con quali file system dovrò formattare per poter usare le schede di memoria SD, dispositivi di memoria USB. Partiamo dalla SD memory card, vedete FAT16, FAT32, EXFAT, mentre per la USB FAT16, FAT32 ed EXFAT ed HFS più. Per le apparecchiature DJ che supportano EXFAT, quale apparecchiature DJ supporta l'EXFAT? Cioè i CDJ3000, l'XDJRX3 e l'XDJXZ, questa a partire da marzo 2022. Bene, una bella carrellata di domande e di risposte che sicuramente vi serviranno per capire meglio Rekordbox e per fugare alcune leggende metropolitane che girano sul web. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale, potete fare online tutto con il sottoscritto, contattandomi nella sezione contact, compilando il form oppure tramite le nostre pagine social. Per chi sono indicati i corsi, per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi e non riesce ad andare oltre da solo e per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo. Consulenze su tutte le tematiche trattate da SOS4DJ, comprese quelle burocratiche. Oltre alle nostre pagine Facebook e Instagram c'è TikTok, quindi venite a seguirci video shortissimi, cortissimi con tutti gli argomenti che vi interessano, pillole importantissime. Seguici, ma anche su Telegram, il nostro canale Telegram, se vuoi notifiche silenziosi e chat interna è ovviamente tutto gratis. Il nostro canale YouTube è importante l'iscrizione per farci crescere, mi raccomando iscriviti, 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 ti puoi anche abbonare. Vatti a vedere il video creato per vedere la corsia preferenziale per gli abbonati. Un sacco di video, veramente tantissimi, tutti, tutti esclusivamente per DJ e per produzione musicale, quindi nessun altro argomento. Canale improntato solamente su questo, sempre su questo. Tutto diviso in playlist in modo che puoi organizzare meglio la tua ricerca ed anche col tasto ricerca. Sulla lente di ingrandimento puoi mettere l'argomento e sarà presto fatto la tua. E tutto sarà più facile. Il nostro negozio con l'official merchandising, la linea SOS DJ, la linea Anyway, suono solo quello che mi piace e I play, vuoda like. Puoi attivare la campanella se vuoi essere informato su tutti i contenuti caricati sul canale in tempo reale in anteprima. O mettere un mi piace e condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere loro utile. Ci vuoi aiutare? Lo puoi fare tramite Super Grazie qua sotto o il tasto Sostieni SOS4DJ. Bene, 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 Rekordbox 6, finalmente un po' di domande che mi fate spesso e che spero abbiano la giusta risposta per voi. Magari se ce ne sono altre mettetele pure qua sotto e aggiungete al video così rimarrà sempre attuale. Da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una meravigliosa giornata e ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale, così ci farete crescere, crescere, crescere e vi daremo sempre di più, ovviamente, tutto gratis. Ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Grazie. 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 Grazie.